ragazzi ragazzi non sapevamo che era R4 però provvederemo come vuoi l'altro ci pensa no ma non lo sapevamo Rosa, due parole te le faccio dire però solo due si solo due, vi dico solo questo lasciamo perdere il fatto che non fa male perché è pura, ok? diciamo una cosa stasera, quanto fa bene contiene germe di grano tutti gli integratori oggi sono con i germi di grano invece di spendere tanti soldi per gli integratori perché non abbiamo più quella quantità di vitamini e proteine che ci sono necessarie negli alimenti che non ci stanno più sono tutti finti e contaminati per cui li dobbiamo assumere come medicine a questo punto qua io gliel'ho lasciato l'ho lasciato il germe di grano per cui quando mangiate la pasta state mangiando anche qualcosa di salutare pare una cosa impossibile che la pasta faccia bene che la pasta non faccia male eppure è così mangiare un piatto di pasta costituisce un alimento completo e questo voglio dire, punto e basta grazie grazie